Nasce la collana i consigli per navigare facile del giornale della vela, saliamo a bordo con Susan Bayer su delle imbarcazioni da crociera per vedere come si naviga meglio in sicurezza anche in equipaggio ridotto. Tre DVD imperdibili, nel primo DVD troverete i consigli di Susi e di Enrico Podestà per navigare e per preparare meglio la vostra imbarcazione, nel secondo DVD invece avrete tutti i consigli per regolare e mettere a punto l'imbarcazione sotto vela, quindi la regolazione della randa, del fiocco, la balumina, i punti di scotta e soprattutto il gennaker, questa fantastica vela che in navigazione d'estate con la vostra famiglia darà soddisfazioni incredibili. Nel terzo DVD invece vedremo più le sicurezze in mare, quindi tutte le dotazioni, come utilizzarle e soprattutto come affrontare anche delle piccole emergenze. Tanti consigli che soltanto i merenai solitari possono darci, molto di più dei tantissimi e noiosissimi manuali di vela che si possano leggere a casa. Grazie a tutti!